sono veramente rimasto sconvolto dammi te la telecamera mostrati passi qui davanti a noi aziono il rec e provate a parlare cos'era quell'urlo? edo mi sento strano addosso la luce dentro si spegni e scusi di accendere a sola o? che senso? ho visto qualcuno qui ma che cazzo dici fra? ho visto qualcuno qui ma che cazzo dici fra?